Benvenuti nella seconda sbustata, ecco da Prince che ride se ne va, manco di sbustare una bustina, quindi finalmente apriamo il secondo box di force of will dopo tipo un mese dovuto a causa sua, altrimenti l'avremmo già aperto subito. Dovevamo aprirlo tipo un mese fa, ma il signore è qui, vedi si va a finire di me, parla, parla, la forbice, quando io aprirò rallenti, no non sono 36 bustini, stanno in tempo, che figata però, contiamo, no mi scoccio a conto, minchia, che lotta, vieni, come c'è la prima, forbice lì, vabbè, forbice, vedi che c'è il little red sulla bustina, c'è il little red, cominciamo a sbustare, allora si inizia, allora che abbiamo, oh oh qualcosa che brida, vabbè grazie al cazzo che brida, ho il paletto d'argento, il primo ruler, che cazzo, Pandora della luce, che schifo, non lo volevo, ma è Pandora dark, ma è Pandora della luce, appena, eh? san Westminster, so cui l'ha!, io , ninja john to a hand ehm undora della luce, e se pure il principe, assai e azzurro va bene, percala intesa, e KK jk… ho visto tutto questo pubblico, ho visto cheывать scoprire una bustina e di fuoco in video, ho visto che gli aggiornati, ho visto, ho pronto avere, ora non scegliamo la bustina, dobbiamo ud bendito, bambino su messo sulla Oregon a sbastorizer, Tagli il mazzo! Così si apre a buttire. Così! Che cazzo è questa? Giulietta la Speranz. Sì, ma fate vedere. Leggete il silenzio, questa è quella la Power che ti dice. Si vedono però, si si vedono tranquillamente. Ecco, questa mi serve. Oh, 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 ecco questo è per l'elfo, vai avanti. Questo è per l'elfo del Power. Ah, ecco, Hansel e Greg. Ah, no, fino, questa è quella dell'elfo Power. Sì, dove le metto? Bustinetti. Ah, no, le carte lì. Ed ecco il primo. Eh, il primo Thunder! Ovviamente. Vabbè, io c'erano 4x. Cioè, proprio lì se le chiamano qua. Questo S. Che S. Perché sei in ultima? Ma che c'era poco? Ma non sono nemmeno schiena, vero? No, c'è... No, c'è... Ma veramente, quando lo scusiamo, non lo scusiamo, non lo scusiamo. Non lo scusiamo, non lo scusiamo. Io so, io poi non lo scusiamo. Vabbè, qua... Vabbè, qua... Vabbè, qua... Vabbè, qua... Non è bene. Eh, sì, ma... Eh, sì, ma... E va bene, dice. Tanto costa poco di me. No, no, vabbè, lo verà. Ed ora... Altro box di caffi. Eh, non pare casino. Ma nessuno che piglia un God Pack. Oh, Rapunzel! Pietra! Pietra! Secondo God Pack! Rapunzel è Power! Ci sono i F. Sì, faccio i F. Sì, faccio i F. Poi c'è la... Poi c'è la... Pietra! 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 Spettacolare, eh! Questa è la Pietra più becca! È bellissima, sex! Seconda! A seconda! Sì, ma solo è il niger smuss qua! E l'altra volta il smustile nero-rosso così! Proprio prima! Almeno ho avuto l'iniziazione di trovata la rossa-grossa! Ah, la braccata dal lupo! Dai, che ruvinino! No! Qualcosa! Ampiro! Ampiro! Ah, minchia! E' stata... Quella lenta! Vero? No! 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 C'è la mela! C'è la mela! La mela e ce l'ho armata! Vedete, c'è la campanita! Uh! Ecco! Dice questo! Questo è quello che ti dicevo! Ritorna al destino! Mi senti qui! C'è pure questo! Tu già c'è la mela! Eh! Nero-verde! 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 No! E' un'altra vampire! C'è troppo casino! C'è troppo casino! E' troppo casino! La pissa! No! 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 E' troppo! Dice un'altra mela e lo vede! Porca troia! Mi dice, hai fatti un Loki power! Mm! Ormai! Dopo qua, va! Scusa! Ma perché non va? Scusa! Ti ho capito qua! Mi... Ma sembra sta cazzo di cazzo! Che non so cosa si! Mi ha a sbustarmi una Little Red! Ma vai Marcos! Tu! E' il tuo destino! Sbustarmi le Little Red! Ma... E' il... E' il ruler! Il ruler è il mannato! Oppure una biancanica! Ma... Ma lo vedrò! Lo vedrò! C'è l'elfa! Ma l'elfa è solitante! C'è una pietra e c'è questo! E' un merdo! E' un merdo! Ma manco un karu! Che cazzo! C'è ho comprato un box per i karu! Eh non vuole! Non avrò i karu! Ma che... Eh vabbè! Non ce ne sarà qualcosa c'è! Ma che... Cazzo! Ma manco un karu! Guardate! Eccolo! Oh! Almeno una rossa c'è! Comunque... Scusa la prima super! No! Ehm... Mi sentite si! No! C'è Rapunzel! Ecco! Ehm! Ehm! Cade la e sbusta! Eh... Qua c'è il cappuccetto! Ma che ti serve? Devi andare a cagare quando vuoi stipulare! Poi c'è ansia! E lì! E lì! E la luna! E la luna! E la pietra! 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 E quello là insano! Si! Minchia! Ma io lo so stai in un karu che c'è! Io si che so stai in un culo! Ehm! Biancaneve c'è! Perfetto! Fammela vedere! Fammela vedere! E la gelosia! La gelosia! E poi la me la vediamo! Moschettire! Moschettire è mazzinzana! Mazzinzana è un moschettire! Da! Ma voglio solo i karu! Rapunzel! Rapunzel è power! Rapunzel è assurda! Che da volare ai tizi! Minchia! E poi c'è la casa! E questa è la verde e blu! Due per! No! Due per! Due per! Due per c***o! Ma devo guardare una mezza! No! Una mezza! Maia! Manca un karu! Si che c'è il guild dei rei però! Karu! Vieni da me! Ehi! Garu! 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 La tua moschettiera è buona! E il piferaio è buona! Merda! Ma non c'è un karu! Che c***o? Ma non c'è un karu! No! Vabbè! Sì! 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 Un karu è rosso! E brilla! No! Non meno uno! Ah! Ersink! E falla vedere! Questa Ersink! Garu! Garu! Ma fai un c***o a garu! Il c***o a garu! Nel c***o di garu! Non c'è garu! Non! Un box in mancungaru! Sbustatemi un karu! E sbustatemi un karu! Vanti quelle uo! Fuota! È caduta pure una ferra! Fuota! Guarda! 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 Quella c***o! Guarda! Guarda! Ma mancunga Luca! Come devo giocare? Ma il blocco senza rapidità! Eh c***o! 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 Ma mancunga Luca! C***o! Ma mancunga Luca! Ma quattro uo! Ma quattro uo! Quattro uo! Quattro uo! Non scherzavo quando dicevo quattro uo! Abbiamo trovato tre casette! Eh ma mancunga Luca! Abbiamo trovato tre casette! Due di queste! Due di queste! Tre castelli! Mmm! Guarda! Facciamo Red! Red! Tre Thunder che non diamo! Guarda lì come ride! Guarda! Tre Wivor! Si! Due Lune! E un Gilderet! Gilderet si chiama! Gilderet! Ma comunque mettilo un po' più centrale! Più centrale! 2 Atos! Qui bu! Ok! Eh mamma mia! Ah, precisi. 3 Ansel, 3 Fino. E gli fai vedere anche la Gretel, appare brutto. 3 Gretel, 3 di queste e 4 casette di marzapane. Poi, che manca? Blu l'ho fatto vedere, no? Vabbè, bianco e 2 Rapunzel, chissivamente. 2 Giuliette, 2 di queste, 2 di queste e 1 di queste. Se si vedono? Sì, sì. E poi le pietre, giusto? Sì. 2 abitature profondi, una luna guandida, un'esizione, 2 pifferai. E infine, come pietra, abbiamo una fuoco-acqua, dark light, questa che è verde, che è verde, waterways, quindi vento, acqua, e una scurità... Wind, team, e due dark wind. Vabbè ragazzi, questo è tutto, c'è tutto un piaccio, commenti, scrivete al canale, mettete un dato sul, sul, nei commenti, e niente, il prossimo box non lo so, quindi, DJ, di tu la chiusura, vai. A te.